Le azioni illegali non ci intimidiscono, ha commentato il Presidente. Un bando da 2 milioni di euro per aiutare le piccole e medie imprese nelle periferie di Roma. I progetti dovranno essere presentati entro il 31 dicembre e realizzati entro 12 mesi. Il finanziamento va da un minimo di 40 mila euro a un massimo di 200 mila euro per ciascuna impresa e 50% a fondo perduto. Si è voluto privilegiare, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ghera, il settore dell'artigianato e dell'imprenditoria familiare, concedendo 10 punti in premio.